Ciao ragazzi, oggi volevo farvi un mini vlog, però un vlog che vi spiego prima quello che vi farò vedere perché sono uscita ieri e ho fatto dei video così silenziati, senza parlare, però lascerò una musichetta Io sono praticamente a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais e ho ripreso un po' della mostra che c'era di... è una mostra che c'era di Marc Chagall non so se voi lo conoscete, comunque c'era dei quadri originali, un sacco di disegni e vi farò vedere un po' questo museo, è molto bello e vi lascerò un po' di video così vedete un po' i suoi disegni, un po' com'è il palazzo è un po' lo stile un po' italiano diciamo così, la struttura dell'edificio secondo me qua è una città molto europea diciamo così nel designer non sembra il Brasile in sé qui in questa città vi farò altri video comunque e poi siamo andati anche in un posto che è in alto sulla colina a 1100 metri che c'è la piazza del Papa, lo chiamano così praticamente da là sopra di questa colina si vede tutta Belo Horizonte non tutta, una parte di Belo Horizonte, illuminata, molto bella e c'è la pista di skate che vi farò vedere lì, poi vedete tutto e poi siamo andati in una chiesa, non è proprio la chiesa principale di Belo Horizonte ma ci sono tante chiese molto belle e allora ho ripreso così vedete un po' come sono le chiese qua, una chiesa cattolica secondo me bellissima, un po' stile come vi dicevo italiana così e niente, spero che vi piace, sto facendo un altro vlog per voi della mia giornata e anche un po' della città quando esco filmerò tutto e vi lascio il video e spero che vi piaccia ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.